Torino ospita per il secondo anno consecutivo il festival della psicologia, quest'anno dopo aver parlato l'anno scorso di felicità parleremo di fiducia, quest'anno abbiamo voluto continuare a cercare qualcosa di importante, qualcosa di intrigante, qualcosa che in qualche modo ci permeasse in ogni nostra relazione, quindi la fiducia. La fiducia l'abbiamo quindi scelta in quanto bene relazionale, in quanto bene comune, in quanto collante o malta che è necessaria per incollare o per tenere vicino qualsiasi tipo di entità, di persona, a cominciare dalla mamma con il bambino, continuando con il cittadino rispetto alle proprie istituzioni, la propria società.